Buongiorno a tutti, benvenuti all'appuntamento con Insieme per i diritti, la rubrica a cura della CGL di Belluno. Oggi con noi abbiamo il segretario generale della funzione pubblica Andrea Fiocco. La funzione pubblica si occupa di tutti i dipendenti pubblici, dei dipendenti delle case di riposo e delle cooperative sociali. Qual è la situazione generale della sanità in Italia? Diciamo che innanzitutto quando parliamo di sanità intendiamo sanità pubblica. La sanità pubblica italiana parte da un'idea bellissima che è nata nel 1978 con la creazione del Sistema Sanitario Nazionale, che ragionava sul fatto che la sanità deve essere per tutti, indipendentemente dal censo. Però la sanità italiana è caratterizzata da alcuni eventi che sono avvenuti negli ultimi 15 anni. Innanzitutto, verso la fine degli anni 2000, il governo Berlusconi, ma poi anche altri governi, hanno pensato che si potesse tagliare per fare cassa sulla sanità pubblica, sull'amministrazione pubblica in generale, ma molto sulla sanità. Questo ha determinato una riduzione degli organici molto importante. Poi, in Veneto, è stato introdotto un meccanismo dei minuti assistenziali, cioè il paziente, in base alla tipologia di paziente, io destino tot minuti assistenziali, 700 per l'area critica, per esempio, e 175 per la medicina lungodegenza, cioè c'è un rapporto di 1 a 4 i minuti assistenziali tra un tipo di paziente e un altro. Questo determina a ritroso il calcolo degli infermieri e degli OS che servono. Il problema qual è? Il problema è che quel meccanismo è tarato verso il basso e quindi ha ridotto il numero di lavoratori che venivano assunti. E poi su queste dinamiche è stata anche organizzata la formazione di queste figure professionali e quindi anche l'università e le scuole hanno determinato i numeri che ci troviamo nel 2019, che è il momento prima del Covid. E a Belluno, come siamo messi? A Belluno ci sono le stesse dinamiche, ovviamente, però a Belluno dobbiamo considerare anche un altro strumento di organizzazione della sanità, che è il piano sociosanitario regionale. La regione, negli ultimi tre piani sociosanitari, ha detto io vi tolgo parte dell'offerta come ospedale, quindi riduciamo gli ospedali come posti letto, però vi do il territorio. A Belluno cosa è successo? È stato tolto in termini di posti letto, ma non è stato dato quello che doveva essere dato in termini di territorio. E questo ha penalizzato soprattutto le terre alte, perché chi è nelle valli, vicino a Belluno, vicino Feltre comunque ha di riferimento l'ospedale, ma la Gordino, il Cadore, il Comelico, la Valboite hanno patito molto queste scelte qua, perché si sono travati con quasi nulla. Gli ospedali di Agordo e Piede sono stati destrutturati in maniera molto significativa in questi anni e non parliamo di quello che è caduto al Co di Villa Putti e di quello che è caduto all'ospedale di Auronzo. Durante la pandemia il servizio sanitario pubblico è stato fondamentale. Cosa ci ha lasciato in eredità il Covid? Il Covid ha lasciato una consapevolezza che i numeri che dicevamo prima, quelli calcolati in quella maniera, non erano sufficienti. Quel calcolo era sbagliato e serviva molto più personale. Noi credevamo che il Covid avesse insegnato quello e invece non ha insegnato, perché dopo il Covid si è ritornati alle dinamiche di prima. Vorrei precisare che quello, se ce l'abbiamo fatta, anche se con grossa fatica, non ce l'abbiamo fatta per gli aspetti organizzativi, per come era organizzato il lavoro, ma ce l'abbiamo fatta per le capacità, la professionalità e lo spirito di abbingazione dei lavoratori che si sono dannati l'anima per riuscire a dare servizio, per riuscire a fare quello che hanno fatto. L'altra dinamica è che dopo il Covid molte persone hanno rivisto complessivamente la loro vita e c'è qualcuno che ha anche cominciato a dire, beh io potrei anche non lavorare più in sanità, potrei anche andare in casa di riposo perché ci sono dinamiche diverse, potrei andare via, andare all'estero e abbiamo avuto fenomeni migratori che prima non avevamo. Medici, infermieri, operatori sociosanitari, qual è la situazione e che cosa si può fare? I profili più importanti numericamente sono medici, os e infermieri, gli infermieri su un'azienda come la nostra di più di 3.000 dipendenti sono 1.400, gli os sono 550, però ci sono moltissimi altri profili professionali, i tecnici sanitari, tecnici di radiologia, tecnici del laboratorio che viaggiano però su numeri che stanno intorno ai 60-70 per profilo. Tutti questi profili soffrono e è una dinamica che appartiene a tutta l'Italia, in particolare però a Belluno abbiamo 1. Popolazione poca, quindi avrai mediamente poche persone che vogliono intraprendere quella carriera, 2. Hai offerte in altri campi, cito Luxottica, ma lavoro a Belluno ce n'è, quindi evidentemente i ragazzi difficilmente pensano di fare quel lavoro. Spesso Belluno è una zona di passaggio, arrivano persone da altri territori, soprattutto dal sud Italia e dopo legittimamente provano a ritornare a casa e poi abbiamo il problema anche della casa come abitazione, perché abitare a Belluno è difficile ed è anche difficile trovare casa. Cosa si può fare? Le ricette sono difficilissimi, aumentare gli stipendi sicuramente perché se gli stipendi attuali in sanità non sono adeguati al tipo di formazione che fanno queste persone e al carico di responsabilità che hanno, perché si occupano di una cosa importantissima che è la salute. Però non basta quello, sicuramente c'è da lavorare sulla casa, a me viene in mente una cosa, per alcune professioni è stato pensato uno sgravio contributivo, una riduzione degli anni da lavorare per andare in pensione, questo potrebbe essere l'idea, non lo so se è la ricetta, però non capisco perché non si sia mai pensato una cosa di questo genere, però sicuramente non si può fare quello che si sta facendo adesso, cioè tornare ai livelli di prepandemia come logica. Un recente decreto del Ministro della Sanità Schillaci punta alla riduzione delle liste attese, cosa ne pensa la CGL? Allora, intanto va detto che la ricetta è sempre quella, quando c'è da ridurre le liste attese e questo è anche un lascito del Covid, perché ovviamente durante il Covid si è fatto altro e quindi non si poteva fare tanti tipi di esame, la ricetta è metto dei soldi e chiedo alle persone che lavorano attualmente in sanità di fare altre prestazioni, stiamo parlando di persone che sono gravate da un periodo in cui hanno lavorato tantissimo, a quelle stesse persone si chiede di fare di più, con più soldi, però sono persone già faticate. Oggi il governo Meloni fa un decreto dove dice io ridurrò le liste attese con l'acquisto e prestazioni aggiuntive, però non ci mette i soldi, quindi questo è ancora peggio, chiediamo sempre alle stesse persone di fare di più. C'è un'altra cosa che non viene detta in questo decreto, che quel decreto riduce in parte i fondi del personale e questa è una cosa gravissima che va denunciata. Nei settori che tu segui quali sono le maggiori criticità? Diciamo che in tutti i settori, ministeri, enti locali, cooperative sociali, case di riposo, sicuramente la carenza di organico, ma l'abbiamo già detto anche per la sanità, è il tema principale, la difficoltà a reperire personale. Nel ministero in alcuni enti abbiamo meno di metà del personale storico. Il problema però, secondo me, più allarmante da qua agli anni a venire è quello degli operatori sociosanitari, perché in questo momento, negli ultimi anni, le scuole sono due a bell'uno convenzionate con la regione che formano gli operatori sociosanitari, rispetto ai posti che mettono a disposizione non raccolgono neanche metà delle adesioni. Vuol dire che nel giro di pochi anni gli operatori sociosanitari che oggi sono vicini a pensione, andranno in pensione e non avremo personale per sostituirli, questo determina un grandissimo problema nell'organizzazione della sanità, ma proviamo a pensare a quello che potrebbe succedere in case di riposo che affidano la loro assistenza soprattutto all'operatore sociosanitario. Il problema può diventare lacerante dal punto di vista sociale, abbiamo un problema sociale, in futuro non sappiamo chi si occuperà dei nostri anziani e quindi o abbiamo le badanti o non avremo più la possibilità di dare servizio come case di riposo, in provincia ci sono una trentina di case di riposo che soffrono tutta la carenza degli operatori sociosanitari, moltissimo, e andiamo incontro a una situazione molto pericolosa. Ci metto anche il fatto che un anno fa, un anno e mezzo fa, la regione ha provato a inventarsi l'operatore sociosanitario con formazione complementare, credendo di dare un contributo, quella cosa bisogna dire che è stato un fallimento. Intanto su Belluno erano stati proposti come formazione 30 operatori sociosanitari con formazione complementare, non ne abbiamo avuti 30, ma i risultati che si prefiggeva la regione non sono arrivati, quindi quella è stata l'ennesima misura spot elettorale pensata dalla regione e che non ha dato risultato. C'è un problema di personale sanitario per venire a lavorare a Belluno e per rimanerci? Beh, una delle dinamiche che rileviamo molto forti è questo, il problema fondamentale è la gente naturalmente viene qui a Belluno, uno dice vado a Belluno perché la provincia di Belluno è bella, poi viverci, lavorarci è un'altra cosa. Venire a Belluno per lavorare in sanità e rimanerci significherebbe che abbiamo una sanità attrattiva dal punto di vista professionale. Ora la sanità bellunese fa tantissime cose e le fa bene, però il problema grosso è che non abbiamo l'eccellenza, perché l'eccellenza bisogna crearla? Noi per esempio alcuni pazienti molto gravi vengono direttamente portati con l'elicottero a Treviso perché Belluno non è attrezzata per far fronte ai grossi traumi. Io non dico che bisogna lavorare su quello perché bisogna avere tutto un contorno di personale e di altre unità operative per poter avere quel tipo di attività, però si potrebbe pensare di specializzare Belluno su qualcosa e questo potrebbe diventare attrattivo per medici, infermieri e altro personale su qualcosa di nicchia mi viene da dire. Pensiamo a quello che è stato il Co di Villa per esempio fino al 2017 che aveva la cura dell'osteomelite e nel 2017 avevamo due dottoresse, una calabrese e l'altra credo siciliana, che si erano stabilite qui per imparare quella professione perché al Co di Villa si faceva la cura di quella malattia. Ora non dico che quella ricetta, però un pensiero per rendere attrattivo anche dal punto di vista professionale e non solo per le opportunità economiche che potrebbe dare, la sanità forse un'idea potrebbe essere questa. Grazie a tutti per essere stati con noi, vi ricordiamo che il prossimo appuntamento con Insieme per i diritti sarà il 10 di luglio. Grazie. 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 Grazie.